Buongiorno e bentrovati con il primo appuntamento con l'informazione di Teleregione. Prima di leggere i titoli delle prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola vediamo un servizio dedicato alla politica regionale perché ieri si è dimesso l'assessore Vincenzo Niro. Lascio nel rispetto degli elettori le sue parole, il presidente Toma, scelta politica legittima. Antonio Tedeschi nonostante l'ordinanza della Cassazione non entra in consiglio in programma oggi martedì 7 marzo. Vediamo. Vincenzo Niro non è più assessore della giunta regionale. Il segretario dei popolari per l'Italia ha rassegnato le dimissioni a poche ore dal consiglio regionale, seduta che si preannuncia di fuoco. Nella riunione il presidente Salvatore Micone dovrà prendere atto dell'ordinanza dei giudici della Cassazione che alcuni giorni fa hanno stabilito che la surroga, il meccanismo che consentiva ai primi non eletti di entrare in consiglio al posto degli assessori, non poteva essere abolita a legislatura in corso. I giudici hanno accolto i ricorsi di Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro, ma l'esponente dei popolari per l'Italia non potrà fare il suo ingresso in aula nonostante il provvedimento. L'ormai ex assessore lavori pubblici ha deciso di lasciare il suo incarico nel governo regionale per rispettare la volontà degli elettori che nel 2018 hanno votato la lista dei popolari per l'Italia e per senso di lealtà nei confronti di tutti coloro che 5 anni fa si sono candidati le sue parole. La decisione di Vincenzo Niro che torna a vestire i panni del consigliere regionale sbarra la strada per il ritorno in aula di Antonio Tedeschi. Non mi vogliono in aula perché mi temono tanto, evidentemente ha spiegato a Teleregione, perché ho la schiena dritta e lavoro per il bene dei cittadini. Le deleghe di Vincenzo Niro, viabilità, lavori pubblici e infrastrutture, restano al governatore. Donato Toma le terrà per sé. Ho preso atto delle dimissioni, ha dichiarato il Presidente a Teleregione, che sono collegate alla situazione attuale e rispetto alla posizione dello stesso Vincenzo Niro, assessore ma anche segretario di un partito regionale. Le sue dimissioni sono avvenute sulla base di considerazioni politiche. Nei prossimi giorni mediteremo sulle vicende politiche, per ora non voglio prendere decisioni affrettate. Non lascerà invece il suo posto in giunta regionale l'assessore trasporti Quintino Pallante. Filoteo Di Sandro, il cui ricorso è stato accolto dalla Cassazione, entrerà quindi in consiglio regionale a differenza di tedeschi. Pallante è convinto e, riferendosi al coordinatore di Fratelli d'Italia, sottolinea Chi farà il mio supplente in aula seguirà le indicazioni del partito. E non sono mancate le reazioni a questa notizia. Giunto il commento del segretario regionale di articolo 1, Francesco Totaro, l'unica cosa che avrebbero dovuto fare i partiti del centrodestra molisano dopo la sentenza della Cassazione sarebbe stata quella di chiedere a gran voce le dimissioni del presidente Toma. Invece oggi assistiamo alle dimissioni di Vincenzo Niro da assessore regionale con la condivisione dei partiti di centrodestra per impedire il reintegro di Antonio Tedeschi in consiglio regionale, ennesimo giochetto di questa maggioranza, se così vogliamo definirla. Al peggio, ha concluso Totaro, non c'è mai fine. E ora vediamo la rassegna stampa con i titoli dei giornali oggi in edicola. Iniziamo come sempre con primo piano Molise. C'è proprio questa notizia in apertura. Surroga Niro lascia la giunta. Tedeschi non entra in consiglio. L'assessore dei popolari per l'Italia rimette le deleghe nelle mani del presidente Toma che accoglie le dimissioni. Ha deciso da uomo libero, mossa politica condivisibile. Pallante resta nell'esecutivo. Salvo colpi di scena, Di Sandro torna a palazzo da Immo. E in taglio medio si parla sempre di politica. Nervi tesi nel nuovo centrosinistra. Volano gli stracci tra cinque stelle e fanelli. Greco e Cori vendicano di aver fatto implodere il centrodestra. La capogruppo PD state spostando l'attenzione dalla verità dei fatti. Da Venafro, inquinamento in città. Bonelli arriva appunto a Venafro. Serve il lavoro di squadra. Radioterapia, rete della sinistra. Superare lo stallo, ma per il futuro si punti sul pubblico. Dentro la notizia da Termoli. Notizia di cronaca di ieri. Sequestrate e costrette a prostituirsi. La mobile arresta gli aguzzini. Due rumeni in manette. Spacciaquadri che dipinge per opere di Guttuso falsario nella rete dell'arma. La notizia da Campobasso. Cane ucciso con un ombrello. Le associazioni schierano i legali. In taglio basso invece si parla dell'autonomia differenziata. Pure Castrataro non fa sconti a Toma. La fondo del sindaco lontano anni luce dalle esigenze di questa terra. Il punto di oggi è dedicato alla crisi del commercio di prossimità e porta la firma di Umberto Berardo. Per quanto riguarda lo sport, si parla di lupi, la di Maselli. Un K.O. che fa male, non ci sono alibi, ma basta disfattismo. Va a soggirar di mister Coletti, orgoglioso dei ragazzi, un successo pesante. Nuoto, la H2O Sport, si aggiudica il meeting nazionale M2. Da primo piano vediamo i titoli principali del quotidiano Il Centro. Omicidio al bar, scarcerato Ursino. Pescara, agguato sulla strada Parco, torna in libertà il presunto mandante. In taglio alto si parla del reddito di cittadinanza. Il governo dice basta, c'è il mia per i poveri. E poi premio Borsellino, ora c'è un progetto di legge, patrimonio educativo. Dal centro ci spostiamo sul messaggero Abruzzo. L'appello dei sindaci, riducete i pedaggi. Caso A24 e A25, i primi cittadini di nuovo riuniti. Varata un'istanza al governo, oltre al ribasso delle tariffe, chiesti transiti gratis per i pendolari e più sicurezza. Sci, cannoni, impianti di risalita. Ecco i fondi. Infine una notizia di cronaca. Ragazzo rischia un occhio, perdonata la baby gang. Lanciano, i giovani superano la messa alla prova. La vittima però chiede i danni, 200 mila euro. E ora vediamo i quotidiani nazionali. La prima pagina del Corriere della Sera è dedicata, l'apertura è dedicata ai migranti. L'appello del colle. Mattarella al governo e alla UE. Il cordoglio si trasformi in scelte concrete. Giovedì il Consiglio dei Ministri. Accutro le possibili misure. Bruxelles. A breve la risposta a Roma. Poi si parla della riforma, del reddito di cittadinanza, mia, sgravi di due anni se si assume chi percepisce il nuovo reddito. Rapine in centrale con un coltello, sei feriti a Milano. Dal Corriere della Sera vediamo l'apertura di Repubblica. Anche qui si parla della tragedia dei migranti di Cutro, Mattarella. Migrare è un diritto. Il Presidente ribalta l'approccio di piante e dosi sui profughi che non devono partire. E chiede. Il cordoglio si traduca in scelte concrete dell'Italia e dell'Unione Europea. Meloni. Un dovere morale. Impedire altre tragedie. Subito misure contro i trafficanti. Ma Salvini rilancia la linea dura. Una stretta sui permessi di soggiorno. Il piano del governo. Tagliare a tutti il reddito di cittadinanza. Agli occupabili. 375 euro. E poi la politica. Effetto Schlein. In un giorno quasi 4.000 iscrizioni al PD. Da Repubblica vediamo la prima pagina del messaggero. Apertura un po' diversa, dedicata invece al fisco. Un tetto alle detrazioni. La riforma del governo. Tre aliquote e sconti più alti sulle imposte a chi guadagna meno. Rivoluzione a reddito si chiamerà mia. Assegno a 375 euro. E l'ISEE scende a quota 7.200. Migranti. Appello del Colle. Ore fatti. In arrivo. Corridoi umanitari e fondi. Giovedì. Il Consiglio dei Ministri straordinario a Cutro. In crisi. La produzione dei pomodori. In Italia pizza e ragù sono a rischio. Siccità. Guerra e boom di domanda. L'Africa limita l'export. Infine, in taglio medio, si parla del terrore a Milano. Rapine accoltellate. Ferite 6 persone. Dal messaggero, vediamo la prima del quotidiano Il Tempo. L'altro quotidiano romano. Lezione inglese. Il titolo di apertura dedicato all'emergenza migranti. Pugno duro del Regno Unito sui clandestini, bando a vita e trasferimenti in Ruanda. Smentita l'ennesima bufala, con Salvini al Viminale meno morti in mare. Monito di Mattarella, il cordoio si tramuti in scelte concrete della Unione Europea. Poi la politica tra Conte, Schlein e Derbi a chi è più di sinistra. Anche sulla prima pagina del Tempo troviamo l'addio al reddito di cittadinanza. Arriva mia il nuovo sussidio. Dal Tempo al fatto quotidiano, apertura dedicata anche per questo giornale diretto da Marco Travaglio alla riforma del reddito di cittadinanza. Una rapina ai poveri. Titola così. Il reddito di cittadinanza diventa mia, meno soldi a meno gente. Uno su tre rimane senza. Per gli occupabili, l'assegno è tagliato da 500 a 375 euro al mese. E l'ISEE viene ridotto per recuperare 3 miliardi e la formazione zero. In taglio alto, Meloni lascia solo piante e dosi e Salvini le prepara un pacco. Oggi il ministro dell'Interno riferisce alla Camera. Dal fatto quotidiano al manifesto, che titola Il Gran Consiglio. Giovedì il Consiglio dei Ministri sui migranti a Cutro. Meloni prova a ricostruire l'immagine del governo senza scaricare piante e dosi. Mentre la Lega rilancia i decreti Salvini. Il Vaticano, fermare gli scafisti non basta. Salvare vite e accogliere. Mattarella, capire chi parte. Anche il manifesto parla del reddito di cittadinanza. Meno soldi a sempre meno persone. Voci sulla stretta via il reddito di cittadinanza. Arriva la mia misura di inclusione attiva. Dal manifesto alla verità, che si occupa dell'inchiesta Covid, la chiamavano scienza, invece era Speranza. Fu l'ex ministro a cancellare messe e funerali, ma scaricò sul CTS. Il comitato di esperti riteneva le misure inefficaci. Lui forzò la mano giocando di sponda con l'IS, il cui capo si faceva dettare la linea. Dalla verità, sole 24 ore, BTP Italia, record di compratori, taglio agli sconti per finanziare l'IRPEF a tre aliquote. Un'altra notizia che troviamo in apertura del sole 24 ore, e poi Edison e DF Ansaldo, alleanza sul nucleare anche per l'Italia. Concludiamo infine la nostra rassegna stampa con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport, apertura dedicata al Milan, Pioli, missione del diavolo. Milan a Londra con la licenza di passare. E poi la Juve, il caso Vlaovic, se non si sveglia può andare via come Ken. E questa era l'ultima notizia. Vediamo prima dei saluti il nostro palinsesto. Alle 11 ci sarà la replica di fuoco incrociato. A mezzogiorno Viva la musica con Gigione. Alle 14 il TG News. Alle 14.45 l'appuntamento con un caffè insieme. Alle 16 fuoco incrociato. Alle 17 teatro, Is, Es e o Malamente. Alle 19.30 l'appuntamento con il TG News. Alle 21 teatro speciale a Nana Marcanda. E alle 23 l'ultimo spazio con il TG News. E per ora è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo l'appuntamento alle 14 con il nostro telegiornale. Buona giornata. Buona giornata.